Abbracciati ed insieme come nella foto che Marika aveva postato sulla sua pagina Facebook dove ad accrescere il dolore per una morte improvvisa, tragica, fatale, c'è la surreale circostanza che è avvenuta proprio nel giorno in cui la giovane Sarta avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno. La tragedia è racchiusa proprio in quella pagina di Facebook in cui i messaggi di auguri improvvisamente si bloccano per il dolore, il lutto, per una festa che non c'è stata. Così insieme, oggi, anche per l'ultimo giorno, per l'addio nella chiesa di Santa Maria della Speranza a Battipaglia, i due fidanzatini verranno salutati per l'ultimo addio dopo l'incidente avvenuto in sella alla potente moto Yamaha Blue di Pierpaolo che ne ha spezzato le vite per sempre. È stato acquisito agli atti dell'inchiesta della procura di Salerno che con i carabinieri della compagnia di Battipaglia deve fare luce sull'incidente, il filmato registrato dalle telecamere di video, sorveglianza dell'impianto che appartiene all'amministrazione comunale di Bellizzi e che ha registrato l'intera sequenza e la dinamica della tragedia che è costata la vita a Marika Capacchione, 22 anni, al fidanzato Pierpaolo De Martino, 26. Il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, prova su un foglio a spiegare la dinamica in base alla quale si vede chiaramente un'auto che si ferma in sosta nei pressi del bar, una seconda vettura che svolta a sinistra in direzione contraria alla moto che a velocità sostenuta sopraggiunge scendendo da Monte Corvino-Rovella e che probabilmente, sorpresa dall'auto che svolta, sbanda e cade, non lasciando scampo nell'impatto a Marika che è morta di colpo. Mentre Pierpaolo si è spento dopo essere stato accompagnato in ospedale a causa di un'emoragia interna. Il ragazzo ha anche reagito nel momento dell'incidente e ha provato ad alzarsi a guardare in direzione di Marika per capire cosa fosse successo. Nell'ambito dell'inchiesta, la conducente dell'auto che svolte al momento è scritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo, un atto dovuto per consentire alla magistratura di porre in essere gli accertamenti tecnici dovuti. La notizia che arriva brucia pelo, ti arriva alle 11 del mattino quando ancora si sta riprendendo il ritmo di una giornata e pensare che è arrivata la prima notizia che la ragazza era morta sul colpo. Quindi questa è la cosa che ci ha rattristato. Poi la sofferenza di Pierpaolo, il ragazzo che portava la moto. Non ci sono parole, è inutile. In questo momento rispetto silenzioso e avvicinanza alla famiglia. Io faccio un appello per tutto ciò che possa servire per stare vicino ai cari di questi due angeli che sono volati. Le immagini sono segregate perché il magistrato le ha pretese per cercare di capire la dinamica dell'incidente. Quindi lì abbiamo una buona videosorveglianza che riprende attimo per attimo l'incidente. Ti ripeto, è drammatico la situazione perché due vite spezzate, 22 anni, poi festeggiare il compleanno di questa ragazza nel giorno della sua morte è un dramma. La famiglia se lo ricorderà, i suoi amici se lo ricorderanno per tutta la vita questo evento tragico. Ti ripeto, non ci sono parole. Ora l'unica cosa, il silenzio, è in più quello di cercare di fare squadra intorno a questa situazione di questa 164. Lo dico non per alimentare naturalmente polemiche e altre perché in questo momento, ripeto, ci vuole rispetto. Però chi riveste un ruolo istituzionale deve darsi da fare per cercare di capire come risolvere questi problemi perché quella strada è diventata un martirio. Abbiamo approvato adesso con la provincia una rotatoria che è più sopra dove cerchiamo di rallentare perché è il massimo picco della velocità. Il bivio che va per San Vito, una rotatoria grossa, sono già avviati i lavori di esproprio. Faremo in conferenza di servizio con la provincia e con il comune di Monte Corvino Rovella. E in più avevamo già appaltato due lavori per due tutor per l'alta velocità per cercare di rallentare perché quella è una provinciale, una strada che parzialmente è extraurbana però rientra in una zona industriale dove c'è molto movimento e quant'altro. Quindi bisogna cercare di sistemarla al meglio per garantire la massima sicurezza. Ora, io ripeto, adesso è un appello accorato a stare vicino alle famiglie di questi ragazzi perché credo che per una famiglia sarà un dolore atroce che se lo porteranno per tutta la vita.